Ciao a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con le videoclassifiche di Matrimoni e Musica. Stiamo per scoprire insieme le tre canzoni che più vi consigliamo per il momento della comunione. Al terzo posto incontriamo il Panis Angelicus di Cesar Frank. Alla seconda posizione incontriamo l'Ave Maria di Gounod. Alla prima posizione di questa speciale classifica c'è l'Ave Maria di Schubert. Una piccola curiosità che forse non tutti sanno, l'Ave Maria di Schubert non è un brano sacro. Quelle che abbiamo sentito sono le tre canzoni più consigliate per il momento della comunione. E la vostra scelta su quale cadrà? Con Matrimoni e Musica non vi resta che dire di sì.